Musica Oggi questo messaggio whatsapp è rivolto all'onorevole Sebi Romeo, capogruppo nel Consiglio regionale del Partito Democratico E in particolare è rivolto alle sue certezze La nostra trasmissione televisiva ha dichiarato con certezza da terza internazionale comunista Quando il sol dell'avvenire era considerato qualcosa al di sopra di Dio Che il prossimo candidato alla presidenza della regione per il centrosinistra sarà Oliverio Che certamente sarà rieletto e sarà il primo presidente a fare due legislature in questa regione Ora noi insomma da un lato siamo ammirati delle certezze granitiche del capogruppo Romeo Nel prospettare il futuro di Oliverio e del centrosinistra in particolare Allo stesso modo però ci chiediamo e gli chiediamo dove vive l'onorevole Sebi Romeo Non si rende conto di quanto è fragile e quanto dissenso c'è intorno al PD E soprattutto c'è intorno questo dissenso alle sue certezze a quelle di un gruppo dirigente molto ristretto E che ormai non risponde più a nessuno Nella stessa intervista l'onorevole Sebi Romeo affermava poi che era indignato per il silenzio del PD Sulla vicenda Oliverio e sulla situazione in cui Oliverio si ritrova incastrato politicamente Ecco noi chiederemo a Sebi Romeo Lui è il capogruppo di questo partito democratico Se questo PD non parla significa che non esiste più E d'altronde quanti mesi sono che questo partito democratico non ha un segretario regionale E da quanto tempo Sebi Romeo e tutti gli altri non si pongono invece l'obiettivo di affrontare una discussione franca Sul perché questo PD è completamente franato elettoralmente Non solo alle politiche ma anche alle amministrative e a tutte le consultazioni che ci sono state nel corso di questi 4 anni Di legislatura Oliverio e di guida del gruppo del Consiglio regionale del PD Ecco allora le gentezze di Sebi Romeo nel prospettare un roseo futuro a Oliverio e a chi gli sta intorno Perché ormai non si può dire che intorno a Oliverio c'è il PD Il PD non esiste più Il PD non si capisce chi lo dirige Un giorno sembra che sia ancora Magorno che è uscente Un altro Magorno dice che lui non c'entra più nulla dal momento in cui ha rassegnato le dimissioni Poi sembra che ci fosse un commissario da Roma Ma non abbiamo notizie o non sappiamo se abbia mai messo piede nella sede del PD E se una sede del PD ancora esiste Ecco rispetto a questo drammatico quadro che preoccupa non solo il PD Ma i cittadini mossi dal fatto che una forza, un patrimonio importante come quello del centro-sinistra Non possa andare disperso Ecco di fronte a questo quadro, a queste preoccupazioni Che vengono da un contesto esterno Le certezze di Sebi Romeo ci appaiono da un lato arroganti E da un altro ci consentirà assolutamente ridicoli